oh sì 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 io sono già qua puntuale la prof non c'è ancora cosa c'è che non va adesso non vai a chiedere dove è vero magari non c'è perché insomma io oggi non ho fatto i compiti sarebbe una cosa buona ma julian sei contenta di essere puntuale no e dovresti cominciare a far diventare una cosa normale buongiorno bambini di buon amore strano vabbè sono contenta per lei bene bambini oggi c'è un'ora particolare una sorpresa lo so qual è la sorpresa non dobbiamo stare qui tutto il giorno andiamo a casa grazie è proprio la migliore no 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 julian oggi c'è lezione ma oggi abbiamo visite e chi viene sono curiosa chi potrebbe essere magari il sindaco o un clown è una buona amica mia e lavora allo zoo e porta qualcosa che vi piacerà di sicuro la vado subito a prendere una sua amica che lavora allo zoo oh la ci sono sempre con corno bene lulu lala andiamo a casa andiamo in classe ma fate le brave ciao bambini sono rebecca queste sono lulu e lala wow non mi aspettavo insomma io mi metto subito qui sono il coordinatore benvenute il mio nome è julian foglia siamo davvero contenti che siete nella nostra classe potete restare quanto volete si a lulu lascia in pace il giovanotto julian e questa giraffa migliore amici e insomma scimmia volevo dire no 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 insomma cosa vuole fare davvero divertente ehi ma aspetta di solito questo è il mio posto insomma ahahah che bello sono vicino una scimmia no 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 vieni qui tu lascia a posto il giovanotto pensavo di non avere una cosa facile da in classe ma insomma delle scimmie non è che sia non facile da gestire oh non sono arrabbiata vero no possiamo lo stesso essere amici se facessimo tutti un cerchio parassimo con le scimmie sì 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 certo certo volentieri potete fare tutte le domande che volete molto a proposito delle scimmie o io 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 avrei una domanda io sono julian sì sono qui venuta a trovare noi ma se andassimo anche noi a trovare dove vivono loro ha anche una domanda ma sono gemelli o fratelli o sono amici con calma bambini abbiamo bisogno di un po di spazio per il cerchio ok adesso che siamo tutti seduti possiamo iniziare chi ha già visto una scimmia così in uno zoo in un safari non lo so dove sono finite oh no 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 venete qui voi due non potete mica andare dove volete ehi lulu lala venite subito qua e io ho detto che dovete stare qui vicino e comportarvi bene io sono il coordinatore posso arrampicarmi venite venite giù 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 salire io julian scendi subito non voglio che tu ti faccia male poi dobbiamo andare pure in ospedale oh ma insomma lo sa benissimo che sono brava arrampicarmi non ha visto qualche julian o cosa succede di nuovo oh oh anna stai bene non vuoi sederti un attimo c'è qualcosa col tuo bambino oh non lo so magari magari partorì devo partorire è il momento julian davvero renditi utile vai in segreteria e chiama il prof per favore per favore oh sì vado vado subito sono anche super veloce vado subito anna ti vuole portare in ospedale ma insomma non posso lasciare qui le scimmie magari non vuoi sederti un attimo prof avrei una domanda ma partorisce qui adesso nella scuola oh tu sei lulu o lala vabbè insomma potresti essere anche julian oh oh avere un bambino qui nella scuola no no spero di no spero che riesco ad arrivare in ospedale oh non lo so spero che max arrivi prof prof oh dove è finito oh no devo trovarlo lei mi ha detto che devo trovarlo devo trovarlo ehi prof è qui da qualche parte ehi non c'è tempo bambini con calma oh non me lo sarei aspettata così oggi eh lulu lala smettetela oh no non è possibile da dove hanno preso questo oh qui c'è proprio un caos a scuola lulu e lala vi ho detto di stare tranquilla basta oh qualcuno mi può aiutare davvero ma certo ma certo l'aiutiamo noi ma ma come possiamo aiutarla insomma come si fa a far partenere un bambino non lo so chiamo una croce rossa quanto pare non arriva il prof magari da qualche parte sì sì esatto la scuola elementare sì 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 un insegnante ha rotto le acque lulu lala basta sì sì in una classe sì sì oh sono super agitata sì sì esatto prima un versito sì un insegnante oh no non è possibile oh nel suo ufficio oh no oh non ce ne sono uguale con la prof eh sì eh no non c'è il prof non so dove sia oh ciao mi stai aspettando eh come non c'è e dov'è ho bisogno di lui oh non sono gli studenti non lavorare ma anch'io posso stare un po' fuori lavorare in un parco oh no 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 perché ho un'ambulanza non l'ho chiamata io qui ah prima ben sì ti avete letto sì deve essere qui da qualche parte una classe eh eh sì sono il preside è successo qualcosa chi l'ha chiamato ah buongiorno le preside eh sì bene eh un insegnante che è incinta cosa un insegnante oddio mia voglia mia voglia è incinta ah ma arriva il bambino ah non avrei mai pensato di partorire così il bambino a scuola oh a meno male è andato tutto bene è proprio bravo il bambino oh come sono emozionata sono emozionatissima non mi sarei immaginata una cosa come all'esterno una scuola e poi uno che partorisce calma calma insomma è andato tutto bene no e insomma avevano cosa raccontare oh insomma a me piace matematica eccetera ma questa è stata allora più bella di tutte oh per favore mi seguitemi seguitemi la classe sopra oh si muovano per favore qui arriviamo oh cosa sono cosa ci fanno qui delle scimmie siamo al circo oh ma sei calmi insomma sono lulu e lola oh mi dispiace non siamo alla zoo siamo in una classe una scuola ohiaiaiaiaia torniamo alla zoo per mobile city eh oh non è possibile questa è una classe dovrebbe esserci lezione no eh prof si è dimenticato un bambino ehm è già arrivato max tuo figlio cosa mi sono dimenticato tutto ma certo oh mia figlia oh ma tesoro mio come stai oh oh mio figlio oh figlio oh Anna tesoro mi dispiace davvero tanto avevo un appuntamento molto importante no no non ero a lavorare al parco ehm sì ora sono qui ehm sì max insomma c'era qui la mia amica Rebecca con le giraffe ma non pensavo che saremmo arrivate a questo punto ma ehm c'è stata una sorpresa ah anche tu quindi mi vuoi fare congratulazioni grazie vieni qui oh quanto pare è andato tutto bene ma anche l'ospedale facciamo un controllo eh sì penso che sarebbe meglio andiamo eh mia cara classe ora non avete più lezione potete fare un racconto su quello che è successo oggi oggi è stata davvero una giornata divertente prima c'erano le giraffe e poi lei ha avuto il suo figlio insomma bambini bambini ehi posso passare ehi c'è un bambino appena noto eh una domanda avete già un nome per il bambino se è un maschio perché non Julian oh sì o Lulo appena detto eh no Julian Lulo o Lara di sicuro non sarà il nome del figlio quale sarebbe un bel nome? avete delle idee ragazzi? scrivetelo nei commenti ciao